No, apri il bigliettino bianco. Quello bianco! Questo perde! No, no, le strisce dove stessi... Dai, apri! Quello, pensavo... No, no... No, prima leggero. Dai, c'è l'altra voce. Anche in casa Juve sta studiando la nuova maglia e a quando sembra non saranno abolite le tradizioni di Rieger. Fai vedere la voce. Chi era umanista qua? Dai, dai, dai! Artefatti! Fai vedere la voce! Come il carceracco! Che tavola hai visto? Come il carceracco! 2012 è una voce a tavoce! Ma la fa ingazzare pure il giorno del compleanno suo, la fa ingazzare. Il 2012 è un anno che non ricapiterà mai più. Il pescario in Serie A, la Juve ha rubato il sottotitolo scudetto e io compio i miei trent'anni. L'anonimo diceva, a mezza età è quando smetti di crescere, alle estremità. e cominci a crescere nel mezzo. 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 Ma no, ma l'abbiamo aperto, lo scritto è là, che te lo prendi? Va bene, lo posso usare come vuoi. Questa è una testa, la testa sarà un po'. Ma no, questo vale per i corredi, la pagheria, un accessorizzata. Poi ci hanno detto che praticamente il telefono che vuoi tu non si sa se arriverà e quando arriverà. Ah no, va bene, forse mi ci comprerò il telefono. Ma aggiungo i miei soldi. Però non so quando ti arriverà.